Sta arrivando. Mettiamoci in posizione. Buongiorno! Oh, Gesù. Dietro un grande film c'è sempre una grande agenzia. Il film giustifica il muozzo. Claudi, ti sposto tutto per questo ruolo. Faccia di me lo stronzo che serve. Bello, grazie. A volte ho la sensazione che siano tutti un po' attesi. Ci sono i miei spazi. Odla, odla. Mi ha risposto? Oggi c'è un livello di felicità tipo leopardi di mattina. Sai che sei? Ci sento tanto rigido. È l'osso quello. Tu dimmi se c'è una forma di cinema più alta di una famiglia che si sberrata. Non ci riesco! Non ci riesco! Finché non escono i dati degli ascolti sta un po'... Pulisci. Mi rilassa. Ti hai preso una botta forte in testa. Non ti sei ripreso per tutto. Cazza! No! Addio! Finché l'onda non ci travolge. Finché il caldo non ci scioglie. Noi che favo? Ballamo! Nooo! Ma perché oggi c'è tutti la maschera con questa faccia da cazzo? Sei tu, Corrado? Non è più raro. Noi! 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 Noi!